È importante fare educazione alla legalità a scuola? Principalmente perché quello che noi siamo oggi saremo anche domani e quindi una buona educazione alla base in gioventù porterà anche degli adulti consapevoli del proprio futuro e quindi pronti a gestire le diverse situazioni presentate dalla possibilità, dalla fortuna diciamo. E quindi l'incontro di oggi è stato molto importante per noi più che altro per capire che ci sono ministri, c'è il governo che ci aiuta, che è al nostro lato e ci appoggia in quello che stiamo facendo.